Vincenzo, quanto si soffre a vedere il Pescara dalla panchina? Si soffre tanto, ma soprattutto si soffre perché è una squadra con tante qualità che non riusciamo con continuità a mettere in mostra, quindi dobbiamo cercare di tirarle fuori perché abbiamo una rosa che non può permettersi di fare un campionato anonimo. Abbiamo già parlato con il mister e tutto e prepariamo adesso la partita di domenica nel migliore dei modi. Tanti tifosi, inutile nasconderlo, vorrebbero vedere Fiorillo in porta. Ma questo mi fa piacere perché vuol dire che sono stato apprezzato come ragazzo più che come portiere, che è più importante ancora, ma io mi alleno sempre al massimo e sembra scontato dirlo, però non è così. Aspetto, sono sicuro che prima o poi tutto il lavoro che faccio con il mister dei portieri soprattutto mi premierà da qui alla fine. Basterebbe comunque poco per fare il classico salto di qualità, anche per quanto riguarda la classifica. Tutte le squadre sono racchiuse in soli sette punti, non era praticamente mai accaduto in Serie B. No, appunto. Per quello dobbiamo prefissarci un obiettivo chiaro come gruppo, che è quello che ovviamente non ci dobbiamo nascondere di perlomeno rimanere nelle piazze più alte dei play-off perché è questo il campionato che deve fare il Pescara. È ridicolo girarci attorno e parlare di altre cose perché credo che noi tutti vorremmo arrivare a fine anno e provare perlomeno a vincere per l'ennesima volta il campionato per provare a pareggiare almeno l'annata disastrosa che c'è stata l'anno scorso.